Penso che alla fine purtroppo ci si è fatti male veramente per poco, questo forse è il grande rammarico e la grande tristezza che mi rimane, cioè quella comunque di aver dato fiducia ad un gruppo, di aver fatto e di essermi presa anche questo impegno nel 2014 proprio su un nocciolo duro di persone per me imprescindibili, avere anche forzato per avere nel gruppo determinate persone sulle quali mi sono appoggiata e che come ripeto ritengo professionalmente valide, avevo costruito appunto un gruppo di liberi professionisti, persone che potevano davvero dedicarsi al bene del paese e quindi l'esserci poi frantumati per personalismi è quello che fa più tristezza a me oggi, è quello che rende incomprensibile e più, ma legittimamente incomprensibile e più questo epilogo perché non si trova il motivo politico sostanziale, vero, ma neppur di pretesto perché non sono i loculi, non è l'esternalizzazione e non è quello che si è voluto poi mettere su giornali per dire qualcosa anziché tacere, ma come ripeto purtroppo la vera tristezza e il vero rammarico era di aver costruito una classe politica nuova, giovane, competente, che in due anni aveva saputo costruire le basi per fare veramente tanto per il paese e dare la svolta e che invece purtroppo è finita così.